La cura passa per la prevenzione. Ne sono convinti tanti volontari della Lilt, Lega Italiana Contro i Tumori, e ne è convinta l'amministrazione comunale di Marostica, chiarato gli spazi per l'apertura della nuova sede Lilt, in via dalle laste, in quella che era l'ex casa del custode delle scuole. Un punto di riferimento importante per lo screening, la diagnosi, gli accertamenti, di forme oncologiche tra le più diffuse, dal cancro alla prostata, quello all'utero, alla mammella, alla pelle. Cosa si troverà qua? Qui si troverà la possibilità di fare una prevenzione per il tumore al seno, attraverso delle visite mirate da parte di un chirurgo senologico, che attualmente è in pensione ma che lavorava all'ospedale di Bassano. Poi la futura prevenzione per quello che riguarda la problematica urologica, quindi prostata, attraverso un altro collega urologo, poi la prevenzione su quella che è la problematica delle patologie femminili, e quindi con vista ginecologica ed eventuale ecografia transvaginale. In prima linea il comune che ha contribuito con 10.000 euro per la sistemazione degli ambulatori, un presidio fisso che va incontro alle necessità di tantissime persone. Finalmente oggi inauguriamo quello che diventerà un importante presidio per il territorio, non soltanto per la comunità di Marostica, con un'iniziativa portata avanti dal vice sindaco che devo ringraziare, ha veramente trovato soluzioni a degli spazi che erano inutilizzati all'interno dell'istituto comprensivo di Marostica. Dopo la riqualificazione antisismica si sono ricavati due angoli, due spazi, uno per l'Associazione Nazionale Calabinieri e l'altro per la Lilt.